Interrogatorio inaspettato per Mirko Alessandrini, il marito di Guerrina, la cinquantenne che manca da Caraffello dal 1 maggio 2014. Il frate congolese infatti durante l'interrogatorio fiume durato oltre 7 ore, avrebbe raccontato di un incontro avvenuto il 28 aprile 2014 con Guerrina, Mirko, il fratello e Lorenzo. Proprio in quel contesto la donna avrebbe manifestato l'intenzione di andarsene. Mirko Alessandrini è arrivato in procura accompagnato dall'avvocato Nicola Detti e dal padre Benito. Il dottor Dioni voleva alcuni chiarimenti, noi ci siamo presentati spontaneamente, tra l'altro abbiamo rinunciato ai termini che sono previsti dal codice e sono stati dati questi chiarimenti, un interrogatorio molto sereno, è durato anche poco, una quarantina di minuti. Molto probabilmente sarà l'ultimo atto di indagine della procura, penso. Le tematiche sono state affrontate questa mattina? Questo non lo posso dire, però si è ricostruito un po' una parte di quel primo maggio e basta. Le domande sono state fatte in relazione alle dichiarazioni di padre Graziano. Si chiuderanno le indagini a breve? Io questo è quello che ho letto sui giornali, il dottor Dioni non ha detto niente, è una mia sensazione che sarà l'ultimo atto di indagine. Avete ricostruito anche quel primo maggio a Sestino? Una piccola parte, perché è durato veramente poco, tra le formalità e tutto è durato mezz'ora, 40 minuti, quindi veramente poco. L'aspicio sia mio che l'avvocatessa Fagiotto è quello appunto che la posizione di Mirko per quanto riguarda le false dichiarazioni venga archiviato, se no affronteremo il processo. Proprio dalla difesa negli ultimi giorni è arrivata la richiesta di un sopralluogo ed una ricerca approfondita nei luoghi in cui padre Graziano sosterrebbe di aver perso il cellulare, come si legge nei pizzini ritrovati nel monastero a Roma in cui il religioso si trovava nel momento dell'arresto. Il telefonino è caduto nell'acqua come il libro delle preghiere. La mia era una semplice provocazione, nel senso se lui ha detto dove ha perso questo telefono, poi dopo ho sentito l'avvocato Zaccheo che ha detto che su una bacinella d'acqua è caduto. Però ecco, avesse indicato il luogo è chiaro che sarebbe stato opportuno accompagnarcelo, però ancora aspetto di poter leggere l'interrogatorio di padre Graziano.